Terra Amara, episodio di martedì 7 febbraio, gli annunciano a Unkar la morte del nipote. Nel pomeriggio di martedì 7 febbraio 2023 andrà in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento con la sop opera turca Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che i gendarmi ritroveranno il corpo di Erkumente e lo comunicheranno immediatamente alla famiglia Yaman. Unkar si mostrerà affrante e sorpresa dalla morte del nipote e insieme al resto della famiglia parteciperà a funerali dell'uomo. Con loro ci sarà anche Gultena. Anche nel nuovo episodio in onda il 7 febbraio non mancheranno i colpi di scena. La polizia ritroverà il cadavere di Erkumente dopo che Fekele e Unkar avevano cercato di nascondere il corpo dell'uomo e le tracce del suo assassino. In particolare il vecchio boss aveva gettato in acqua la pietra che Yilmaz aveva usato per colpire a morte il cugino di Temir. Insomma, i responsabili avevano fatto di tutto per cercare di occultare l'assassinio di Erkumente, compreso l'abuso su Gultena. Dando uno sguardo alle nuove anticipazioni di Terra Amara, si vedrà Unkar mettere in atto una nuova messa in scena. Nel momento in cui la polizia andrà alla villa per comunicare la morte di Erkumente. Di fronte al commissario, la madre di Demir apparirà disperata e sofferente. Nessuno, al di fuori di Gulten, Unkar, Demir, Yilmaz, Fekele e Sabatine. Per il momento è a conoscenza di come siano andate realmente le cose. Erkumente è stato ucciso da Yilmaz per legittima difesa dopo che aveva usato violenza su Gultena. Anche quest'ultima accompagnerà poi la famiglia Yamana ai funerali di Erkumente che si terranno a Istanbul. Le indagini sulla morte di Erkumente si chiuderanno in fretta. Nessuno sospetterà che l'uomo abbia usato violenza su Gultena. La ragazza ovviamente, sarà ancora scossa. Nel frattempo, Gaffur cercherà di riavvicinarsi a Seher. Ma la reazione della domestica sarà per lui inaspettata. Dando uno sguardo alle trame successive, Seher cercherà di ingannare gli Yamana dicendo a Unkar di aspettare un figlio da Demir, video. Quest'ultimo però è ben cosciente di non essere lui il padre della creatura, visto che già da tempo sa di essere sterile. Insomma il piano di Seher non andrà in porto e per lei le cose potrebbero mettersi male. Grazie. 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 Grazie.